Ma io non ci vedo! Lo vedi? Dove stanno? Sono i marziani! Sì, sì, i propri marziani, chi li guarda? È un miracolo! È un miracolo! Facciamo lì la vita! Ma che miracolo! È un disco volante! La miseria, avete mai visto un disco volante? Sono fenomeni spaziali che da migliaia di anni si ripetono con una certa frequenza e l'ha detto anche Carter Osanna, Osanna, canta Osanna Evviva Maria e chi la creò Osanna, Osanna Osanna Maria Aio, aio, aio di mortazzi! Ma non fai un culo sto strutto! Ma non fai un culo di mortazzi! Ma che cos'è? È un disco volante a forma di elicottero e ti la... Ma non fai un'elicottero! Ma è un elicottero! Ma non fai un... Guarda, menicuccio! L'arcangelo Gabriele che ci butta la mano dal cielo! Allora non sono menicuccio, non è l'arcangelo Gabriele e non ci buttano la nanna, è un elicottero, la miseria, ma è possibile che non abbiate mai visto un elicottero nella vostra vita? È una cosa vergognosa, io quando mi trovo in mezzo della gente così sproveduta mi sento veramente disagio, vado a telefonare ai sindacati. Ernest Franca non ha mai tradito una meravigliazione.